Ciao a tutti e bentornati, continuiamo la nostra playlist dedicata al Blender. Nel tutorial di oggi andiamo a vedere in che modo sia possibile effettuare le animazioni. Al solito sto utilizzando il Blender Pack 1, vi rimetto il link in descrizione e al solito se ancora non l'avete fatto iscrivetevi. Come prima cosa andiamo a posizionarci la nostra camera, l'avevamo nascosta e adesso con il tasto 0 del tastierino numerico possiamo entrare nell'opzione camera, adesso siccome non abbiamo la camera bloccata alla vista ovviamente se dovessimo spostare la camera si sposterebbe anche l'intera immagine quindi lo camera to view, spostiamo l'immagine e ce la posizioniamo nella posizione che vorremmo utilizzare per effettuare appunto l'animation quindi questo è quello che vorremmo si veda all'interno della nostra camera. Ok, quindi tasto N e rinascondiamo il sottomenu. Adesso dobbiamo fare alcune considerazioni. Noi abbiamo un sistema quindi costituito dagli oggetti più dalle ozza che sono state vincolate agli oggetti. Quindi abbiamo la nostra armatura. Allora per adesso nascondiamo la nostra armatura e teniamo conto che questa posizione, che è la posizione iniziale, è la posizione che abbiamo ottenuto passando per la edit mode che ci ha permesso di vincolare le ossa agli oggetti. Questo è importante. Se adesso nascondo l'ogget mode teniamo conto che questa è la posizione di partenza per effettuare tutte le animazioni utilizzando le ossa e oggetti sono esattamente posizionati, ok? Però se noi andiamo a nasconderci la nostra armatura e selezioniamo tutti gli elementi allora la cosa che dobbiamo fare è dobbiamo nascondere la nostra camera e selezionare per adesso soltanto gli elementi, gli oggetti e utilizziamo il tasto I del tastierino numerico. Quello che otteniamo possiamo registrarci la location, rotation and scale. Eccola qui. Se io adesso prendo questo elemento e lo posiziono nel frame 2.50 allora indipendentemente dalla posizione che avranno assunto questi elementi nei frame precedenti, il frame 2.50 alla fine questi elementi si riposizioneranno esattamente in questo modo. Questa è l'idea che andremo a sfruttare. Per cui se noi ci posizioniamo nel frame che abbiamo indicato come frame 1, ricordatevi che la camera si vede anche se la vede nascosta, che non può essere semplicemente selezionata. Quindi l'idea qual è adesso è di andare a spostare questi elementi, seguendo delle direzioni che sono, diciamo, concettualmente consone con il tipo di movimento che devono fare. Ad esempio, teniamo conto che quando deve essere collegato il galoppino dovrà tener conto della scanalatura, quindi lo sposteremo nella direzione Y. L'asta la sposteremo in direzione X perché si dovrà collegare con questi perni. La ruota in direzione X e non avremo problemi particolari per il supporto. Quindi adesso, posizionando il nostro cursore nella posizione che abbiamo indicato iniziale 1, non ha molta importanza perché poi vedremo in che modo spostarla, quello che dobbiamo fare è andare a spostarci tutti questi elementi e lo faremo, ad esempio, spostando asta e ruota G in direzione che abbiamo indicato con X, il galoppino, ad esempio, G in direzione che abbiamo indicato con Y, G e Y in questo modo, e questo lo possiamo spostare in direzione Y. Ma dall'altro lato, dall'altro verso, ok. Quindi, nessuno di questi elementi è presente all'interno del mio campo visivo. Se adesso seleziono tutti gli elementi premendo il tasto A e I del tastierino numerico, mi vado a registrare Location, Rotation and Scale, torno in 0 con la mia camera. Se adesso faccio partire l'animazione, quello che succede è che questi elementi automaticamente riconvergeranno verso il centro. Questa è l'idea. Questo è il concetto che vi deve essere chiaro, ok. Ogni volta si riposizioneranno, partendo da questo frame iniziale, torneranno nella posizione che abbiamo registrato prima all'inizio e poi abbiamo spostato in questo modo, ok. Ricordiamoci sempre che la posizione 250 è la posizione in cui questi elementi verranno tutti quanti ad essere collegati fra di loro. Posizione finale. Ok, quello che dobbiamo andare ad esaminare adesso è prendere in considerazione i singoli elementi, ok. Adesso possiamo spostarci in questo tipo di view e consideriamo il singolo elemento. Adesso abbiamo registrato sempre questi due frame, ma questi due frame però sono solo quelli relativi al supporto. Voglio che il supporto sia il primo elemento ad arrivare in posizione, poi faremo arrivare la ruota, poi faremo arrivare il galoppino e poi faremo arrivare l'asta. Per far questo io posso spostare la posizione finale del supporto, diciamo portiamolo fino a 60. E questo che cosa significa? Che se io adesso mi pongo in camera e faccio partire l'animazione, ho anticipato il riposizionamento nella posizione finale di questo elemento, ok. Ma quello che voglio, e non lo trovo più, Allora, quello che ho fatto li ho spostati contemporaneamente, quindi ecco la posizione dell'altro, mi era sfuggita. Quindi questo lo devo riportare nella posizione iniziale, diciamo. E quindi che cosa significa? Che io adesso se mi pongo con la modalità camera, questo sarà il primo elemento ad arrivare. Gli ho spostato il frame iniziale, l'ho lasciato dove era, ho spostato il suo frame finale e glielo ho anticipato, ok. Il secondo elemento che voglio far arrivare dovrà essere la ruota. La farò partire all'incirca più tardi al frame 50 e poi questo la sposterò al frame che ho indicato con 100. Con questo tipo di ritardo, ecco che cosa vado ad ottenere. Ottengo che il primo a posizionarti sarà il pezzo, poi arriverà la ruota, in questo modo. Poi arriverà l'asta. Allora dell'asta facciamo lo stesso. Facciamo partire ad esempio al frame 100. Preferisco, spostate singolarmente i frame, quindi cliccateci prima e poi spostateli in modo da non avere problemi di posizionamento. Anche questa lo spostiamo diciamo a 150. Ok. E quindi che significa? Che se faccio partire l'animation mi arriverà prima il supporto, poi mi arriva la ruota, poi mi arriva l'asta. Ho sbagliato, devo far arrivare prima il galoppino. Quindi se seleziono questi due elementi insieme, li posso spostare insieme diciamo in questo modo. Devo anticipare i tempi del galoppino. Il galoppino diciamo in posizione dovrà arrivarci all'incirca qui. E quindi dovrà partire all'incirca diciamo qui. 150? No. 100 così. Quindi che significa adesso? Facciamo arrivare l'elemento secondo. Adesso partirà il galoppino e poi partirà l'asta e raggiungerà la posizione finale. Ok. Questo è il concetto. Aumentiamo il numero dei frame, portiamolo a 500. In questo modo. E quindi, primo elemento, secondo elemento. Poi arriverà il galoppino. Possiamo anticipare i tempi del galoppino. Adesso io posso fare tutte le correzioni che voglio. Ne posso anticipare la partenza ad esempio. Ho anticipato la partenza, vedete? In questo modo. E poi facciamo arrivare l'asta e anche dell'asta possiamo ad esempio anticipare la partenza dell'asta. Come posizione, come elemento, come frame finale più o meno va bene. Ed ecco quello che ottengo. Mi arriverà il primo pezzo in posizione. Il secondo. Poi arriverà il galoppino. Alla fine arriverà l'asta. Queste posizioni finali sono quelle comuni con le armature. Questo significa che se io mi sposto ad esempio attorno al frame, diciamo, 300. Al frame 300 vado ad azionare la mia armatura. Adesso si vede anche l'armatura. Vediamo che cosa succede all'armatura. Niente. L'armatura rimane immobile. Noi non abbiamo fatto questo tipo di operazione per l'armatura. Ok? Però in questa posizione finale armatura e elementi sono perfettamente posizionati e quindi se diciamo, muoviamoci dal frame che abbiamo indicato come frame 300 dal frame 300 entriamo nella edit mode pardon, nella pose mode e in post mode andiamo a selezionarci l'osso della ruota che è il seguente e andiamo a registrarci adesso la rotazione dell'osso della ruota. Quindi non dobbiamo far altro che rotation la rotazione deve avvenire in post mode e deve avvenire per l'osso. Questa rotazione deve avvenire. Utilizzeremo l'angolo e la rotazione deve avvenire attorno all'asse delle x quindi questo sarà l'asse che dovrà essere pari ad 1 e adesso in teoria facciamo partire la rotation. Ok? E che cosa facciamo? andiamo a registrarci il primo frame per quest'osso I basta la rotation prima posizione spostiamo nel frame finale diciamo 500 e nel frame finale facciamogli fare una rotazione di facciamogliela fare di 720 gradi I e rotation se io adesso faccio partire posso anche nascondere l'armatura quindi quello che ottengo è prima l'assembly del meccanismo in questo modo e poi quando tutti gli elementi hanno raggiunto la posizione corretta parte l'animation ok? e questo è il criterio con cui andremo a lavorare mettiamo qualche altro frame finale diciamo arriviamo a 600 e facciamo partire la nostra animation quindi assembly e poi movimentazione del del tutto allora la cosa importante quindi che dobbiamo assolutamente ricordare è la modalità con cui funzionano la pose mode e gli oggetti e l'assembly quindi è importante tornare nella posizione della pose mode però ricordate che poi in generale in quella posizione torna automaticamente ci sarà uno stacco se noi sbagliamo la posizione finale che deve essere quella coincidente con le ossa automaticamente quando passiamo nella pose mode e a governare sono le ossa gli oggetti seguendo quello che avevamo fatto nell'edit mode si riposizioneranno comunque correttamente il problema è che ci sarà un gradino nel passaggio che noi non vogliamo ed è questo il motivo per cui utilizziamo i frame in questo modo quindi al contrario diciamo per riportare il tutto in posizione iniziale provate sbaglierete tante di quelle volte ma provateci perché questo poi diciamo è fondamentale anche per realizzare delle animation anche molto complesse una volta che avete capito il meccanismo non dovreste avere problemi al solito se il tutorial vi ha servito è piaciuto iscrivetevi mettete mi piace e ci vediamo alla prossima